Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Facciamo oggi un primo esercizio che ci permette di impratichirsi sul calcolo con i numeri complessi, che è appunto propedeutico all'analisi delle reti in regime sinusoidale, come il prof ha avuto ampio modo di spiegarvi nelle lezioni di teoria. Ho disegnato questo esercizio, questo primo testo, sì sono in condivisione, sì sono in condivisione, che ci permette, qual è lo scopo? Allora abbiamo un semplice rete, immaginiamo di essere in un laboratorio, di misure elettriche, abbiamo un bipolo che è il bipolo U, questo qui, di cui non conosciamo l'impedenza, è un dato che dobbiamo calcolare l'impedenza complessa, e abbiamo un voltmetro che ha un valore efficace, che ci misura 120 volte, un amperometro, posizionato chiaramente in serie al bipolo, che misura un valore efficace di 5 ampere. Abbiamo poi un wattmetro, anche questo che misura appunto la potenza in watt, potenza attiva in watt del nostro bipolo, assorbita dal nostro bipolo, sappiamo che è un bipolo passivo. Ci viene chiesto appunto, come anticipavo, di calcolare la resistenza Z complessa e anche di fare una sintesi serie o sintesi parallelo e sintesi parallelo, scusate, di questo bipolo, ovvero avere, come vedremo, poi la serie di un'resistenza con una parte complessa, che vedremo essere, vedremo se sarà capacitiva o induttiva a seconda di Z. Quindi iniziamo a svolgerlo. Prima cosa da fare, chiaramente non l'ho detto però, il generatore J è, il generatore di tensione è chiaramente in regime sinusoidale. Ok, iniziamo. Allora, per prima cosa utilizziamo i dati che abbiamo in termini di valore efficace di tensione di corrente per calcolare l'impedenza Z. Allora, chiaramente, come sappiamo, Z è uguale al rapporto tra il V complesso, il numero complesso, o meglio, il fasore tensione diviso il fasore corrente. Ricordatevi sempre che i trattini orizzontali posti sopra al valore indicano fasore, che è diverso da numero complesso che all'impedenza c'è il puntino, è pari di diviso I, valore efficace, per E alla J fi. Ok, ho messo male, fi si fa così. Questa è la rappresentazione complessa tramite la forma polare del numero complesso associato dell'impedenza Z. È uguale a Z, chiaramente, il modulo di valore efficace di Z, o meglio, il modulo di Z per E alla J fi. Ancora, possiamo calcolare subito il modulo di Z dal rapporto dei valori efficaci, VV diviso IA pari a 120 diviso 5, che è pari a 24 Ohm. Ok, 120, sì, fa 24. E adesso che cosa possiamo fare? Allora, il modulo di Z l'ho calcolato, adesso, chiaramente, per definire l'efficienza, devo calcolare il fi. Cosa posso fare? Allora, io ho la mia potenza attiva, misurata dal wattmetro, che ricordo essere pari al prodotto del valore efficace della tensione, per il valore efficace della corrente, o metto ancora il VV e IA, insomma, mi pare sono solo quelli, per il coseno di fi. Qui lo riporto, va bene, così siamo ancora più chiari, di V per IA per coseno di fi. Da quindi, da cui ricavo che il cosen fi pari al rapporto, qui abbiamo diviso VV per IA. Ok, adesso, allora, che cos'è il prodotto VV per IA? Valore efficace della corrente, ricordo, è definito come potenza apparente S. Ok, che è pari, ricordo ancora, riscrivo, anzi, VV per IA, 20 per 5 uguale a 600 volt ampere. Ecco, qui è meglio sempre scrivere le unità di misura, dovete sempre scriverle, ma qui in particolare, essendo c'è ne di più rispetto a regime stazionari in cui ce n'erano meno potenze, era sempre in watt, e qui ci sono tre potenze diverse, per cui è ancora più importante se non lo era già prima. Quindi cosen fi uguale a 480 diviso 600, che è pari a 0,8. 0,8. E qui, ecco, chiaramente, devo usare le formule inverse trigonometriche, arc coseno di fi, quindi arco coseno di 0,8, e se voi lo fate con la vostra calcolatrice scientifica, trovate che questo valore è più o meno 36,8. Quindi adesso non sappiamo se è più o se è meno. Ricordo, ricordo che il codominio della funzione arco coseno coseno è incluso tra 0 e pi greco. Ok? Non sappiamo, quindi questo è il risultato della funzione arco coseno può essere varia tra 0 e pi greco. ecco. Ecco. Per cui chiaramente non sappiamo, non possiamo sapere in quale quadrante se siamo nel quadrante, nel primo o nel quarto quadrante, per esempio. Quindi noi sappiamo se è 36,8 il risultato, può essere questo punto, quindi questo angolo, 36 più o questo, meno. Per cui attualmente il problema è, diciamo, indeterminato in questi sensi. qua metto 0, chiaramente ricordo, pi greco. Sì, 0 e pi greco sono i radianti, 36,8 e sono in gradi, però insomma, è evidente. Allora, che cosa possiamo fare? Nulla, finora non possiamo fare nulla. proviamo per così, ragionando, vedere se il valore, se la potenza ci può essere d'aiuto per risolvere questa indeterminazione. ricordo a tutti che, meglio, meglio partire, pi alla seconda più q alla seconda, ricordo che pi è la potenza attiva, q è la potenza reattiva, no? E la seconda è uguale ad s, la seconda è la potenza apparente. Per cui, io conosco s, che è la potenza involta ampere, e posso quindi determinare la potenza q, che è pari alla, chiaramente, questa espressione. Anche qua tengo più o meno, allora, s è 600 al quadrato, meno 480, siamo sotto radice 360 volt ampere attivi. Questa, ricordo, va essere pari a v per i, efficace, efficace, seno di fi. Ok? Ancora una volta, sì, beh, il fi questo non è proprio uscito, eccolo qua. Ancora una volta, posso calcolare il seno di fi, ma ottengo ancora un'indeterminazione, perché ho, se calco il seno di fi come q diviso v per i, ancora il q può essere positivo o negativo da questi, da questi dati che ho. Per cui non lo, non lo posso sapere. E per cui, in realtà, l'esercizio non è risolvibile se non ho qualche altra informazione che mi cala dall'altro, da qualche informazione in più che mi viene data sul mio esperimento, quindi sulla rete che, che sto, che sto cercando di risolvere. Però ho posto l'esercizio così, eh, in modo da porre, eh, il problema nel giusto modo per far vedere come, eh, quali sono appunto le, le, le peculiarità di questi calcoli. Ci viene detto, la risposta è molto semplice, ci viene detto, ci verrebbe detto nel testo del problema e nel vostro caso dell'esercizio, che, eh, il bipolo ha natura induttiva. Per cui lo sfasamento è positivo, ok? Lo sfasamento è positivo, per cui noi sappiamo che è più, qui ci viene detto, è più arco coseno, o meglio, eh, il, il, l'angolo phi è più 36,8 gradi e quindi noi da questa informazione che ci cala dall'alto, come un'informazione, eh, così, di chi ha in mano l'esperimento, possiamo, no, lo assumiamo, lo, lo, lo ringraziamo questa, questa entità e diciamo che 20, il z è uguale a 24, che è il modulo per E alla J 36,8. Lo scopo dell'esercizio è quello di porre il problema nel giusto modo e di porre le giuste domande. Se non ci dà questo problema, noi dobbiamo chiaramente chiedere qual è il bipolo, il bipolo capacitivo e induttivo, quindi qual è lo sfasamento dell'imprendenza. Ok, e quindi ho trovato la mia, la prima risposta, la prima, la prima risposta, la prima domanda, qual è il valore z. Adesso devo, da questa prima risposta, trovare la sintesi serie parallelo del mio bipolo. E lo faccio, no dai, meglio farlo, lo faccio a fianco, qui sotto, lo faccio qui sotto. Inizio con la sintesi serie. Ok. Sintesi serie. Allora, sappiamo che una sintesi serie, beh, in generale l'impedenza la parte reale, modulo di z cosen fi, più j modulo di z seno di fi, che chiaramente paria questo qui è la z reale, e questa parte è la z immaginaria, questa è la rs, quindi la resistenza della sintesi serie del bipolo, più j xs. Ok. la disegno, ma davvero, si tratta di cosa da poco, avrò in generale, nel caso generale, una serie di resistenza più un'impedenza con z immaginario, chiaramente, che può essere induttiva o capacitiva, noi sappiamo in questo caso che è induttiva, perché ci disegno già un induttore all'interno. Cerchiamo di calcolare questi due parametri rs e xs. S uguale, semplice, z cosen fi uguale z r uguale 24 per 08 uguale 19,2 ohm. Ss uguale z seno di fi uguale zi uguale 24. Allora, il seno di, non l'ho calcolato prima, comunque il seno di 36,8 gradi fa 0,6, o meglio, il seno di, sì, il seno di 36,8 gradi è pari a 0,6, per cui è 0,6 e fine 14,4 ohm. Chiaramente il seno di fi, posso calcolarlo anche come, chiaramente, no, dalle formule trigonometriche, seno alla seconda più coseno alla seconda uguale 1, seno di fi è uguale a 1 meno coseno alla seconda di fi. E anche qua è uguale a più o meno 0,6, vi darebbe questo, però sapendo che è l'informazione di prima, che è di natura induttiva, sappiamo che è più 0,6. Per cui ecco, un secondo modo banale per calcolare il seno dello sfasamento fi. Quindi abbiamo 19,2, parte reale, questa è rs, e questa è xs, 14,4a. La seconda domanda è soddisfatta, sintesi serie. Quindi alla fine sono partito dal valore dell'impedenza, no? Dal valore dell'impedenza calcolato per poi calcolare le componenti di una sua sintesi tra due bipoli in serie. Dualmente faccio la stessa cosa per una sintesi parallela. Allora, in questo caso devo scrivere l'ammettenza, se complessa, che è sempre pari al rapporto reciproco dell'impedenza. Qua è pari al coseno di fi primo, fi primo è lo sfasamento della mettenza, più j, y, seno di fi primo. E ancora una volta, y, questa volta chiamo gp, conduttanza, il duale dell'esistenza della sintesi serie, più g, bp. Ok. Ok. Ma prima forse posso anche qui dualmente, al caso precedente, faccio una linea divisiva. la chiamo già rp, chiaramente è la resistenza associata alla conduttanza gp, e mentre questa è xp, dualmente è la reattanza associata alla suscettanza bp. Allora, chiaramente anche qui gp è pari a y coseno di fi primo, e la suscettanza bp è pari a y seno di fi primo. Allora, rp è chiaramente pari al reciproco di cp, e diciamo anche al reciproco, chiaramente, di y ammettenza, modulo dell'ammettenza coseno di fi primo, è uguale a zeta. Quindi, perché il reciproco del modulo dell'ammettenza y è pari a zeta, diviso coseno di fi. Ricordatevi che il coseno di fi è pari al coseno di fi primo, mentre il seno di fi è pari al meno seno di fi primo. Perché dividendo per j sostanzialmente si inverte lo sfasamento. L'avete visto ben bene in teoria. Dunque, adesso lo ricordiamo. Quindi sarà pari a 24, adesso questo passaggio lo evidenzio fra qualche secondo. 24 diviso 0,8 fa 30. Questa è appunto la resistenza della sintesi parallelo. Ricordiamoci, quello che ho appena detto lo riscrivo, y modulo dell'ammettenza è uguale al reciproco del modulo dell'impedenza, e che fi primo è uguale a meno fi. Per cui, chiaramente, coseno resta uguale, ma il seno cambia di segno. xp è uguale, ricordatevi il meno, per il discorso di prima, 1 diviso bp. per cui, meno 1 diviso y seno di fi primo è uguale a z diviso il seno di fi, perché seno di fi primo è uguale a meno seno di fi, per meno fa più. Ed è pari a 24 diviso 0,6, che fa pari a 40. Per cui, rp è uguale a 30. Qua riposso di disegnare l'induttore, perché chiaramente è di natura induttiva. Lo sapevo già prima, perché comunque l'avevo visto in quella serie, non può che essere induttiva anche qui. E nella sintesi parallelo, xp è uguale a 40. Però, appunto, ripeto, come avete ben visto, che c'è una notevole differenza tra la parte reale, questa della sintesi serie, in cui per la stessa impedenza che riscrivo, S è uguale a 24 per E alla J, 36,8, per la stessa impedenza. La stessa impedenza può essere rappresentata in due modi diversi, con la sintesi serie, sintesi parallelo, come ho appena fatto, con i valori molto diversi. rs è uguale a 19,2, qui invece è rp 30. xs è uguale a 14,4, qui invece è pari a 40. Ecco, quindi qui abbiamo avuto modo di dimostrare come lo stesso bipolo rappresentato in due modi, sintesi serie e sintesi parallelo, equivalga a valori molto diversi tra la parte reale e immaginaria delle due sintesi. Ecco, con questo, questo primo esercizio finisce qui, nelle prossime, è proprio un'introduzione al calcolo simbolico, sostanzialmente. Nella prossima lezione faremo altri esercizi, sempre facili, devo dire, però appunto ci permettono di entrare in maniera graduale e di prendere dimestichezza con i fasori, con i numeri complessi, al fine di affrontare con successo l'analisi delle reti in regime sinusoidale. Buon lavoro.